Notte di gelo Altra batteria, tocca alle G3, superate l'emozione iniziale, sono pronte per la gara 3, 2, 1, via, partite Marturan della provincia di Como, precisamente da dove? Mariano Mariano, ok, quanti anni hai tu? 8 9 anni, già compiuti? Li compio al 14 giugno Ti facciamo gli auguri, la prossima settimana, anzi praticamente oggi è il 9, no oggi 10, quindi giovedì Auguri in anticipo Senti un po', la corsa di oggi, un tuo commento a caldo? È stata un po' dura Dura? Sei abituata però a correre tutte le settimane ormai? Sì Quante ore di allenamento dedichi? Beh, non lo so Lo sai, così, e vuoi dedicare a qualcuno la vittoria? A tutti i miei compagni del ciclismo Questo terzo posto, volevo dire, a tutti i compagni del ciclismo, auguri anche a te per le prossime gare, salutaci naturalmente, tutta Como che è bellissima, va bene? Ciao bella, ciao Dove sei, come ti chiami innanzitutto? Allego Eh? Allego E dove sei tu? Milano Milano, Milano città proprio? No, Seveso Seveso, guarda la telecamera lì che così ti inquadriamo bene, è una bella bambina Cosa vorrei fare da grande? Vuoi continuare nel mondo del ciclismo? Sì Sì, e diventare una grande campionessa, come? Hai un modello da seguire? Boh Una tua grande, diciamo così, atleta che vorresti eguagliare? Eh, non lo so Magari sarai tu quella che eguaglieranno gli altri in futuro poi? Sì Sì, e chi vuoi salutare qui davanti alle nostre telecamere? Mia mamma Come si chiama? Anna Lisa Arra, complimenti a te innanzitutto da parte di tutti quanti noi, del nostro staff E di dove sei? Di Pantigliate Provincia di? Milano Milano A che ora ti sei svegliata questa mattina? Alle sei Presto, eh, presto, presto Ma avresti pronosticato, azzardato che tu eri la prima a tagliare il traguardo oggi? Eh, boh No, non lo sai, eh, no Non vogliono essere troppo, loro lo dicono Noi l'importante è correre e che ci divertiamo Senti un po', chi ti ha accompagnato? Eh, mia mamma e mio papà Eh, ti sei sentita subito all'altezza stamattina del circuito? Ti è piaciuta questa corsa? Sì Sì? E qual è stato il momento in cui hai pensato di farcela? Eh... Dopo quale giro? Al penultimo Al penultimo, lì hai avuto questo scatto vincente? Sì Brava, complimenti a te quindi in bocca al lupo anche per le prossime corse Naturalmente salutaci tutta la tua località, va bene? Sì Ciao bella, ciao Classifica finale G3 Al sesto posto, Rota Milena, Polisportiva Marco Ravasio Al quinto, Gozio Alessia, GS Ronco Quarto, Nicoletti Elisa, Ucci Costa Masnaga Al terzo posto, Marturano Greta, GS Cicli, Fiorin Despar Al secondo, Arzuffi Allegra, GS Cicli, Fiorin Despar Al primo, Marra Martina, SC Bettolino Ti addormenterai Buonanotte, buonanotte Notte, notte Ciao 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 Ciao